Musica Ultima edizione di Stadionews in studio, Riccardo Gatto riprenderà nella giornata di oggi il percorso d'avvicinamento del Palermo alla gara di sabato pomeriggio contro il Letchievo Verona. Il rosanero che dopo il K.O. contro la Juventus restano fermi a quota 35 in classifica si ritroveranno al tenente onorato di bocca di falco per una seduta pomeridiana. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Bette Iacchini commenta così il K.O. contro la Juventus. La squadra ha fatto sul piano tattico una buona gara concedendo quasi nulla a un avversario molto forte che si pensava potesse venire qui a giocare con alternative tra virgolette parlando di un gruppo forte e qualitativo come la Juventus. In realtà ha affrontato la partita con tutte le munizioni a pieno regime o quasi e in questo senso abbiamo concesso pochissimo. Dovevamo e potevamo sicuramente fare qualcosina in più negli ultimi 25-30 metri ma oggi dobbiamo riconoscere anche la bravura, la grande attenzione, concentrazione, applicazione che hanno avuto i difensori della Juventus. Intervistato al termine di Palermo-Juventus Stefano Sorrentino ha parlato così mix zone del match perso contro i bianconeri. Un episodio hanno giocato di un campione ha risolto una partita ecco è stata una partita molto equilibrata e la si poteva sbloccare da una parte o dall'altra purtroppo per noi hanno vinto loro. Ezze che Mugnoz ex difensore del Palermo adesso alla Sampdoria ha parlato così di Edgar Barreto. Anche lui come Mugnoz non ha rinnovato e sabato i tifosi lo hanno fischiato e il capitano ha dichiarato Mugnoz e sta facendo molto bene. Ognuno sceglie il proprio destino, consapevole delle proprie scelte, ognuno fa i propri interessi. Mi piacerebbe sicuramente ritrovarlo come compagno di squadra, è un mio grande amico ma non parlo comunque con lui da molto tempo e non so che cosa voglia fare. Sicuramente è un grande calciatore per tutte le altre notizie.